Musica Bentornati al consueto appuntamento con le notizie dal Consiglio regionale. Tutela dell'identità e della propria lingua, valorizzazione del patrimonio culturale, innovazione. Sono questi i pilastri della riforma del sistema culturale Lombardo. Vediamo. Tutte le leggi regionali sulla cultura sono state riorganizzate in un unico testo, frutto di cinque mesi di lavoro della Commissione Cultura presieduta da Luca Ferrazzi. Il testo, approvato maggioranza con l'astensione di PD 5 Stelle e Patto Civico, è ispirato alla salvaguardia dell'identità lombarda, anche attraverso l'impulso agli ecomusei, gli accordi fra regioni, le partnership pubblico-privato e la costituzione di un fondo unico per la cultura. Fra i temi più discussi, la valorizzazione e la tutela di quella che viene definita lingua lombarda, in tutte le sue varietà locali, attraverso attività, pubblicazioni, spettacoli e ricerche. Una sala del Consiglio dedicata a Enzo Tortora, per non dimenticare il dramma di un uomo incarcerato ingiustamente, ma anche come monito per la mala giustizia. Vediamo. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio ha voluto dedicare alla memoria di Enzo Tortora, il popolare giornalista scomparso quasi 30 anni fa, la sala interviste presso l'Aula di Palazzo Pirelli. Alla cerimonia erano presenti il Vice Presidente Fabrizio Cecchetti, Luca Marsico, Presidente della Commissione Ambiente, promotore dell'iniziativa, e Francesca Scopelliti, compagna di Tortora, già senatrice della Repubblica e Presidente della Fondazione Internazionale per la Giustizia, dedicata al giornalista. Da parte di tutti è stato espresso l'augurio che tale iniziativa possa favorire e aumentare nella gente quel desiderio di giustizia che Enzo Tortora ha visto troppo spesso violato e negato direttamente sulla propria pelle, auspicando contemporaneamente anche una giustizia sempre rispettosa della dignità umana. Li si festeggia il 2 di ottobre, ricorrenza degli Angeli Custodi. Sono i nonni, gli Angeli Custodi moderni, figure fondamentali per la società e la famiglia, per la cura e l'educazione dei più piccoli. Domenica, per la festa dei nonni, il Pirellone resterà aperto dalle 11 alle 17, proponendo momenti musicali e culturali, ma anche di animazione e gioco per i nipotini. Testimonial della giornata sarà Renato Pozzetto, lombardo e nonno doc, scelto con un sondaggio sul nostro sito Lombardia Quotidiano, rimasto online oltre un mese, che ha visto il testa testa tra l'attore e l'allenatore Giovanni Trapattoni. Nell'occasione ricordiamo che sarà possibile anche visitare la mostra per i 60 anni di Palazzo Pirelli. I prossimi 8 e 9 ottobre a Bagolino, nel Bresciano, rivivrà la tradizione della transumanza, ovvero la migrazione stagionale delle greggi, delle mandri e dei pastori dei pascoli collinari o montani. La manifestazione, patrocinata dal Consiglio regionale, è organizzata dalla Proloco e rappresenta un orgoglio della tradizione contadina. Tantissimi momenti in cartellone, con sfilata bovina, passerella dei costumi storici e festival dei cori di osteria. Non mancherà la buona tavola, con stand gastronomici e la premiazione per il migliore Bagos 2016, il tipico formaggio locale. E questa era l'ultima notizia, approfondimenti su lombardiaquotidiano.com, grazie per averci seguito e arrivederci nella prossima edizione.